Dal Vangelo secondo Matteo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Gloria a te, o Dio In quel tempo Gesù disse ai Suoi Apostoli Guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoge e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia per dare testimonianza a loro e ai pagani Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno Sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato Parola del Signore Cari amici, oggi ci ritroviamo insieme per esplorare un passaggio del Vangelo che tocca profondamente le corde della nostra fede e dell'esperienza umana Parliamo di Matteo 10, versetti 17-22 Un passo che, nonostante sia stato scritto millenni fa risuona con incredibile forza nel nostro mondo moderno Mentre ci immergiamo nelle parole di Gesù ci troviamo catapultati indietro nel tempo seduti ai piedi del Maestro ascoltando direttamente da Lui Eppure, queste parole trascendono i secoli parlano a noi, oggi, in questo esatto momento Ci interrogano profondamente Che tipo di discepoli siamo nel nostro tempo? Come viviamo e manifestiamo la nostra fede in un mondo così diverso da quello dei primi cristiani? Gesù ci mette in guardia Guardatevi dagli uomini Perché vi consegneranno ai tribunali? Questo avvertimento, lungi dall'essere un semplice eco storico è una realtà che viviamo quotidianamente La persecuzione può presentarsi in modi diversi alcuni evidenti, altri meno Ma il messaggio di Cristo è chiaro La nostra reazione a queste sfide non deve essere guidata dalla paura o dall'angoscia ma dà una fede salda dà una fiducia incrollabile nel disegno divino In mezzo alle difficoltà troviamo un promemoria rassicurante Non preoccupatevi di come o di che cosa direte perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire Queste parole non sono solo un conforto sono un faro di speranza nel buio Nel mezzo delle tempeste della vita in momenti di dubbio e incertezza non siamo abbandonati a noi stessi Dio è con noi guidandoci, ispirandoci e dandoci la forza e la saggezza necessarie E poi le parole di Gesù culminano in una promessa potente e commovente Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato Questa è la nostra ancora nel mare tempestoso della vita Ci ricorda che non importa quanto possano essere dure le prove la nostra fedeltà il nostro impegno incrollabile nella fede sarà ricompensato La salvezza eterna la pace che supera ogni intelligenza è la promessa per coloro che perseverano Questo passaggio ci invita a una fede attiva una fede che non si arrende di fronte alle avversità ma che si rafforza attraverso di esse Siamo chiamati a essere luce nel buio speranza in mezzo alla disperazione amore in un mondo spesso indifferente La nostra fede non è un rifugio per evitare le sfide ma un baluardo che ci sostiene mentre le affrontiamo Mentre ci avviciniamo alla fine di questo nostro momento insieme lasciamo che il Vangelo di oggi risuoni nei nostri cuori e nelle nostre menti che possa ispirarci a vivere con il coraggio di chi sa di essere amato e protetto da Dio anche nei momenti più difficili che la luce di queste parole illumini il nostro cammino e ci rafforzi nella nostra fede E ricordiamo non importa quanto oscuro possa sembrare il cammino la luce di Cristo ci guiderà sempre verso casa che Dio benedica tutti voi